scorciatoie da tastiera personalizzate per il nostro fantastico excel ben trovato su excel ha sempre ragione io sono marco in arte macro braglia e se non mi conosci sono un esperto di excel e di automazione con le macro prima di iniziare con questo tutorial ti voglio ricordare di fare le solite due cose la prima è quella di iscriverti al gruppo facebook excel ha sempre ragione dal quale avrai accesso a un fantastico corso in regalo e potrai interagire direttamente con me e chiedermi quello che vuoi la seconda è quella di iscriverti a questo canale youtube utilizzando la campanella che trovi subito qua sotto il video per non perderti nessuno dei miei prossimi video tutorial veniamo al dunque e andiamo a vedere in questo video che cosa ti insegnerò imparerai a personalizzare la barra di accesso rapido di excel per crearti le tue scorciatoie personali da tastiera è uno dei trucchi che ho imparato prima in excel perché mi ha sempre permesso di risparmiare un sacco di tempo come avrai visto in tutti i miei video precedenti io sono ormai un drago da tastiera sono un vero fottutissimo nerd di excel quindi conosco un sacco di scorciatoie quelle ufficiali di excel ma in questo video senza entrare nel dettaglio di quali sono le scorciatoie per tutti i comandi di excel ti faccio vedere come tu ti puoi creare le tue personali scorciatoie da tastiera per automatizzare diciamo i comandi che più utilizzi durante la tua giornata o il tuo lavoro su excel stiamo parlando della barra di accesso rapida che è quella barra che vedi qua in alto a sinistra del tuo excel quindi sulla barra verde se utilizzi la combinazione colori standard di office oppure di un altro colore quella di fianco ai comandi base salva annulla e ripeti operazione è possibile personalizzarla se non lo sai quindi come si fa a personalizzare questa barra di accesso rapida abbiamo diciamo due modi diciamo che dobbiamo andare nelle opzioni di excel anzi in realtà abbiamo tre modi per accedere alle opzioni di excel abbiamo il classico file opzioni e qui abbiamo la nostra barra di accesso rapido ed è la scheda dalla quale possiamo personalizzare i nostri comandi l'altro modo è quello direttamente da questa freccina che vedete qua a destra quindi questa piccola freccina qui ci clicchiamo sopra con il mouse e vedete che abbiamo altri comandi e andiamo a finire sempre nella stessa scheda delle opzioni l'altro è fare un clic destro qui da qualche parte nella barra multifunzione facciamo personalizza barra multifunzione torniamo sempre nelle nostre opzioni e qui abbiamo la scheda barra di accesso rapido quindi a prescindere da dove ci arriviamo arriviamo a questa schermata delle opzioni di excel che ci permette di personalizzare la barra di accesso rapido e abbiamo due riquadri il primo è quello a sinistra dove andiamo a scegliere il comando il secondo è quello a destra che è quello che andrà a finire nella nostra barra di accesso rapido effettivamente quindi quando noi andiamo vogliamo aggiungere un comando lo dobbiamo cercare qui nel menu a sinistra e dobbiamo aggiungerlo nella schermata di destra quindi andiamo a tirare via questi due bei quadratoni verdi e ti faccio vedere per esempio a comandare ad aggiungere un comando oltre a quelli che io già utilizzo che sono questi che vedi sulla destra andiamo a cercarne uno possiamo fare i comandi più usati oppure tutti i comandi quindi con tutti i comandi vedete quanto è lungo questo elenco perché qualsiasi operazione che tu puoi fare dalla barra degli strumenti di excel è qui presente in questo elenco in ordine alfabetico quindi per esempio una delle cose che io utilizzo molto spesso e che non ho ancora aggiunto alla mia barra di accesso rapido è il pulsantone di aggiorna tutti quindi quello per aggiornare tutte le fonti dati di per esempio di power query oppure tutte le tabelle pivot che sono presenti nel nostro foglio lo andiamo a cercare quindi andiamo in ordine alfabetico a cercare il nostro aggiorno a tutti lo selezioniamo con il mouse e andiamo a appoggiare il nostro freccione qui dove c'è il pulsante aggiungi e a cliccare fortissimissimissimo e vedete che questo aggiorno a tutti si è andato a aggiungere all'elenco dei miei comandi personalizzati in fondo a tutto con questi due freccioni freccini qua possiamo andare a modificare l'ordine di queste voci quindi io posso scegliere aggiorno a tutti posso spostarla su oppure giù io la lascio giù perché ormai sono abituato all'ordine dei comandi che ho e ti faccio vedere appunto come si utilizzano e perché l'ordine è importante diamo ok e vedete che qua in alto si è aggiunto un comando quindi qui abbiamo il nostro comando aggiorno a tutti che si è aggiunto all'elenco che io già avevo ora tenete d'occhio quello che succede qua vi metto il quadratone verde ad evidenziare la mia barra di accesso rapido perché come faccio io ad utilizzare adesso questi comandi con le scorciatoie da tastiera è facilissimo perché mi basta pigiare il tasto alt sulla mia tastiera quindi quello che sta a sinistra della barra spaziatrice e guardate quello che succede là nella barra di accesso rapido compaiono dei numerini dall'1 al 9 e poi dopo ricominciano con 09 che è l'ultimo che abbiamo messo da qui anche capisci il motivo per cui non ne aggiungo mai tanti ma tengo sempre solo i numeri dall'1 al 9 perché così alt e un numerino io ottengo il mio comando la mia scorciatoia personalizzata quindi facciamo esc e ti faccio vedere all'opera andiamo a mettere dei dati casuali qui facciamo finta che questa sia una tabella di numeri ci mettiamo giallo grassetto quindi sono le nostre intestazioni io posso andare a mettere il filtro automatico che è uno dei miei comandi personalizzati che ho a disposizione nella mia barra di accesso rapido con alt e il numero 9 e vedete che il filtro è comparso automaticamente nelle mie intestazioni delle colonne un altro degli degli elementi che utilizzo sempre spesso è il blocca riquadri che è questo qui blocca riquadri anche qua se io voglio selezionare la prima voglio bloccare la prima riga con shift spazio questa è un'altra delle scorciatoie da tastiera che utilizzo quotidianamente shift spazio per selezionare la riga controllo spazio per selezionare la colonna quindi torniamo a selezionare la riga faccio alt 5 e vado a bloccare il mio riquadro quindi in questo modo sono andato a bloccare la mia riga superiore torniamo a fare alt 5 che lo eliminiamo possiamo utilizzare ovviamente il tutti quindi tutti i comandi che noi mettiamo qua li possiamo utilizzare con alt più il numerino che ci viene indicato e lo trovo veramente molto 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 comodo quindi quell'altro uno degli altri comandi che utilizzo sempre è il copia formato quindi alt 7 copia formato di questa cella mi sposto con la tastiera lo incollo sotto senza andare a cercare con il mouse facciamo contro z per annullare e l'altro anche che utilizzo più spesso è l'inserisci simbolo quindi alt 8 per andare a inserire le lettere maiuscole accentate che non trovano posto nella tastiera fisica quindi per questo video ci fermiamo qui sono stato molto veloce breve e in dolore spero che ti sarà utile fammi sapere nei commenti sotto al video che cosa ne pensi se lo conoscevi già oppure se conosci altri trucchi per velocizzare l'utilizzo di excel da tastiera e ci vediamo come sempre nel prossimo video e ti ricordo in chiusura che excel ha sempre ragione